Mi sorprezzo a me bucur, in audizione di X Factor 4, che i miei dietro di Alci viene da Italia. E' veramente un piacere avere un ragazzo dalla bellissima Italia di nuovo in questa quarta edizione dell'X Factor. Come mai sei arrivato in Albania? Sì che hai rito in Cipri. Innanzitutto è un piacere anche per me essere qui. C'è che non siete per me, c'è t'è anche tu? Niente, ho deciso di partecipare ad X Factor Albania, anche guardando i video di Sara su internet, così mi sono informato e ho mandato il video alla redazione. E poi, a sorpresa, sono stato contattato. Facci video di Sara su internet, ufrimzova, mora a pizze e ucontaktova. Matteo, ti auguro in bocca al lupo, tanta fortuna. Il pubblico e la giuria ti stanno aspettando te. Sperso che Cipriati sia l'infatti, Matteo. Forza, Matteo, andrai forte, sono sicura, vai! Proscendeti. Proscendeti. Salve. Ah, italiano, italicino. Grazie per essere venuto. Siamo molto contenti. Grazie anch'io, sono molto felice. Ci puoi raccontare un po' da dove vieni, chi sei, cosa fai? Io mi chiamo Matteo Brento, arrivo dalla Puglia. Edoardo Chidi è sempre stato in Puglia, Vettempernè. Grazie. Io ho pensato di cantare insieme a Testo Bene di Lucio Battisti. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so, elementari se no, la donna è donna e tu una donna sei. Che cosa vuoi da me? Che importa cosa fai? Che io, sai, non ho avuto più di quel che ora tu mi dai Tu prima eri sola Il tempo corre e vola Insegna a te io sto bene Tra le braccia tue così Anche io Anche io Sai, non ho avuto più di quel che ora tu mi dai La 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. La tua voce è molto bene. Che cattropo, quattro. Sì. Auguri. Grazie. Ciao. Ciao. Sono molto emozionato. Eri la sorpresa dell'audizione oggi. Eri la sorpresa dell'audizione oggi. Sei contento? Un po' rigenerato adesso dai quattro po'? Sì, tantissimo. Non me l'aspettavo. Cioè è successo tutto all'improvviso. Sono arrivato, sono scappato qua. E' bello imparare come la prima parola in albanese, la parola po'. Popsi. Ciao. 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 Grazie.